La saga di Temptation Island continua a tenere banco, con nuovi colpi di scena che alimentano il dibattito sui social. Alfred, Sofia e Anna si trovano al centro di un triangolo amoroso che ha scatenato una vera e propria guerra mediatica, con accuse e rivelazioni che tengono incollati gli spettatori. Dopo le dichiarazioni di Sofia in un'intervista, Alfred ha deciso di rompere il silenzio e ha svelato dettagli che promettono di scuotere ulteriormente le acque già agitate. Le accuse reciproche volano sui social, con Alfred che risponde alle affermazioni di Sofia, sostenendo di avere prove che dimostrerebbero come la ragazza lo abbia utilizzato per ottenere visibilità. Il ruolo di Anna in questo dramma non è da meno, con l'ex fidanzata di Alfred, che sembra prendere le parti del suo ex, alimentando ulteriormente il conflitto con Sofia. Le tensioni sono alle stelle e le reazioni sui social di Anna potrebbero essere decisive per il futuro di questa storia, che tiene tutti con il fiato sospeso. La situazione si complica ulteriormente con le minacce di azioni legali da parte di Sofia, che non ha preso bene le insinuazioni sul suo lavoro. La tensione tra i tre protagonisti è palpabile e i social media diventano il palcoscenico di una guerra senza fine. I fan si chiedono cosa riserverà il futuro e quali saranno le prossime mosse di Alfred, Sofia e Anna.